Una bomba incendiaria ed una lettera minatoria recapitata e indirizzata al Presidente della Provincia. Che cosa è successo? Ma questa mattina sono stato informato che era stata rinvenuta presso la sede provinciale del partito di Fratelli d'Italia, il partito al quale appartengo, una bomba incendiaria con una lettera di minaccia dai contenuti di carattere ideologico e gli agenti della Digos di Salerno che naturalmente ringrazio per la tempestività e per la disponibilità che sempre dimostrano nei confronti del nostro mondo politico mi hanno consigliato, così come farò, di sporgere formale querela per questo ennesimo atto, dico io, di intimidazione che naturalmente mi lascia assolutamente sereno, tranquillo rispetto al proseguo dell'attività politica ed istituzionale. Purtroppo devo registrare che non è la prima volta che sono oggetto di queste attenzioni. Negli anni ho visto recapitarmi coltelli, proiettili, ma sono sicuro che anche questo episodio attiene a quel brodo ideologico. Purtroppo la madre degli imbecilli è sempre incinta. Noi andiamo avanti con la nostra attività politica ed istituzionale, forti della convinzione che queste persone rappresentano soltanto un momento patologico della nostra società che è sana e voglio ringraziare già tutti coloro che mi hanno fatto pervenire tangibili segni di solidarietà.